orango tango nasce da un beat che mi ha fatto ascoltare il mio produttore d'ade che si chiamava tango ci siamo affezionati subito è un pezzo molto dinamico e divertente e ci ho scritto su è diventato il tango degli orangotango affronta tematiche disparate nel senso che è un pezzo un po forse il pezzo più surrealista che ho mai fatto perché passa veramente da un argomento all'altro e visto che io ci tengo molte video questa volta abbiamo pensato di ambientare il video in un sogno cioè come se fosse un sogno io ricopro diversi personaggi che vengono un po evocati nella canzone e faccio anche i playback in questo non luogo in questo limbo bianco i playback in base al personaggio che sto interpretando quindi si va dalla cantante lirica al cowboy insomma un sacco di di look e elaborazioni come direbbero in cucina c'è stato un lavoro pazzesco dei reparti trucco parrucco styling fotografia in primavera si uscirà bingo che è il mio prossimo album e sono emozionatissima perché so che in bingo riuscirò un po toccare tantissimi lati del anche del mio carattere della mia musica tant'è che un mio amico che una volta ha definito la mia musica calidoscopica e credo che bingo ne sarà abbastanza la prova e quindi sì ci vediamo in primavera